Buonasera a tutti. Sono arrivato qualche minuto prima semplicemente perché non voglio iniziare tardi e quindi arrivare in ritardo a questo appuntamento a cui tengo moltissimo, quindi aspetto soltanto che qualcuno di voi mi dica se si sente, se mi si vede bene, così poi mi sistemo e inizio la mia relazione. Marco, ti prego mi dai un feedback rispetto alla voce, se si sente o meno, gentilmente. Così cerco anche di capire come mettere sto saggeggio qua. Forse così va benissimo. Allora, mi dite se si sente o meno, per favore. Grazie Cesare che ci sei. Ciao Antonella, vi prego ditemi qualcosa. Si vede e si sente bene, finalmente, meraviglioso. Questo è eccezionale, mi hai dato una bellissima notizia. Allora, abbiamo ancora due minuti. Intanto... Bene, bene, sono contento. Ma si sente bene quindi? E' tutto chiaro? Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Un attimo che blocco qua. Sono in conferenza. A dopo. Fa rumore. Ok. Allora. Bene, bene, bene. Quindi Marco, Tiziana, Laura, Antonella, che bello vedervi. E spero soprattutto di poter essere per voi un buon contributo stasera. Innanzitutto ringrazio tutti i relatori che mi hanno preceduto. Le relazioni sono state tutte assolutamente all'altezza. Bisogna veramente, ed è doveroso, fare un plauso a tutta l'organizzazione, a tutto lo staff. Gina, Luca, Elena, il marito di Elena. Ma tutte le persone che ruotano e sono impegnate nella gestione di questo bellissimo gruppo Facebook, Lo specchio dell'anima. che hanno permesso di dar vita a questo convegno internazionale che ha avuto veramente nomi prestigiosi e soprattutto persone con un grande cuore che hanno portato la loro esperienza e quello che è effettivamente stato delle loro realizzazioni. Sono le nove, quindi io direi di iniziare. Mi sembra un buon modo per allinearci alla qualità del convegno e soprattutto per rispettare tutte le persone che sono arrivate puntuali. Allora, voi sapete che la mia relazione ha un titolo un po' particolare. Il Reiki come percorso, come percorso spirituale, quindi come possibile via di evoluzione. Innanzitutto, molti di voi non mi conoscono perché non è stato per lungo tempo mio costume avvicinarmi ai gruppi Facebook e soprattutto relazionare nei gruppi Facebook. Diciamo che questo Covid-19 mi ha un po' obbligato a mettermi in gioco anche in questa veste. Allora, io sono Annunzio del Gentiluomo, sono Annunzio, sono un caro amico di Gina, le voglio bene come se fosse veramente una sorella e la stimo moltissimo come professionista. Sono un insegnante di Reiki da oltre 12 anni insegno quattro stili di Reiki tradizionali a cui poi si aggiungono altri stili tra cui l'osho Reiki piuttosto che l'holify Reiki il karuna Reiki e poi altri empowerment legati al Reiki. Quindi il Reiki, diciamo che, è una disciplina che ho studiato ho vissuto, ho integrato e soprattutto ho portato veramente dentro di me. Accanto al Reiki mi definisco un ricercatore perché faccio ricerca nel campo del benessere, dell'olismo, delle tradizioni orientali legate appunto a fornire strumenti che aiutano la persona a riconquistare il proprio equilibrio psicofisico. Quindi faccio meditazione mi occupo di mindfulness psicosomatica sono un suonoterapeuta, sono un riflessologo sono un operatore shiatsu e un istruttore veramente shiatsu a livello nazionale e pratico l'ado shiatsu che è una delle ultime frontiere che ha come riferimento Patrizia Stefanini proprio uno shiatsu quantistico che cerca di rispiegare attraverso dei contenuti quantistici lo shiatsu che è questa disciplina che ha oltre 100 anni di storia che affonda le sue origini nella medicina tradizionale cinese. Ho scritto due libri ve li presento velocemente così poi andiamo nel libro della nostra relazione il primo è questo è un manuale sapere, saper fare, saper essere nel Reiki ed è una lettura trasversale di questo strumento attraverso appunto il paradigma delle conoscenze delle abilità e delle competenze all'avanguardia nella didattica di oggi in questo libro ho cercato di mettere al centro l'operatore la responsabilità che ha di dire le sue parole e soprattutto la responsabilità che ha di rispettare la sacralità di questo strumento e di andare anche oltre il concetto di canale di cui parleremo dopo il secondo invece è dialoghi con Omar Conte posso assicurarvi che mai avrei pensato di poter scrivere un libro come questo perché fino a 6-7 anni fa il mio rapporto con la medianità e con i channeler era un rapporto un po' direi abbastanza freddo perché ho sempre pensato che l'etere è più inquinato dell'aria che respiriamo e quindi che era necessario veramente avere un canale pulitissimo per poter arrivare a contattare quel tipo di vibrazioni mentre invece vedevo fiori davanti a me ogni 5 minuti dei channeler diversi e con questo vi prego non sto giudicando nulla e nessuno vi sto spiegando perché ero un po' reticente rispetto a questo mondo e poi ho conosciuto Cristiana Cibrario prima veramente ho iniziato a lavorare per questo convegno io sono il direttore del convegno Andare Oltre Uniti nella Luce questo importante convegno sulla vita oltre la vita che si tiene a fine ottobre a Borgado Torinese in provincia di Torino e che richiama ormai da 5 anni grandissimi professionisti di tutto il mondo dalla Germania dalla Francia dall'Olanda dal Brasile e siamo in forte contatto con l'AR che è appunto questa importante istituzione americana che si occupa della formazione e delle ricerche della vita nella vita oltre la vita e mai avrei detto che potessi veramente trovarmi e occuparmi di questi temi perché la mia vita l'avevo sempre legata o alla nascita o al sostegno delle persone nel recupero appunto del loro equilibrio o eventualmente nel proprio risveglio mentre a un certo punto sono stato accompagnato a conoscere Renzo e da lì poi inizio il percorso parallelo e adesso questo percorso parallelo è diventato parte fondamentale della mia vita perché il convegno è uno dei elementi più importanti per me a cui dedico veramente tantissimo tempo e grazie a Gina e soprattutto ho iniziato anche a essere chiamato come relatore dei convegni e quindi a diffondere le poche realizzazioni che fino adesso ho maturato io nasco come ricercatore universitario infatti il primo libro è una ricerca che è la tesi di dottorato poi rimpostata sulla qualità televisiva e quindi l'idea dell'indagine l'idea del raccogliere i dati ha sempre fatto parte di me e poi accanto a questo c'è una parte giornalistica adoro scrivere sono giornalista 12 anni giornalistica che si chiama Arti Movimento Magazine che ha aperto adesso anche una web radio che è appunto Arti Movimento Web Radio dove stiamo cercando attraverso il confronto con grandi esperti di portare speranza un po' come l'idea di queste dirette su questo bellissimo gruppo e anche di questo mega evento The Mirror of the Soul allora adesso mi sembra che tutti quanti ci siano vedete un po' se qualcuno mi ha scritto per iniziare la relazione perfetto buonasera a tutti eccolo già partito grazie di essere qui Gina è sempre un piacere libro stupendo consigliato Marisa De Giorgi sia un tesoro allora io inizio perché sono passati 11 minuti e sono le 9.07 allora quindi per me questa è una sfida non ho tantissimo tempo di Reiki ho fatto almeno una trentina quarantina di primi livelli di Reiki ho formato 150 operatori quindi di Reiki diciamo che ne parlo abbastanza sono stato anche il primo forse a parlare in università di Shatsu e di Reiki quindi è una materia che non mi è nuova e sicuramente non mi è difficile però oggi voglio darvi una lettura un po' particolare infatti la grande sfida è cercare di comprendere perché questo strumento giapponese di che si occupa di stimolare le risorse dell'uomo e quindi stimolare il processo di autoguarigione delle persone possa essere un percorso spirituale o possa in qualche modo contribuire all'evoluzione personale dei praticanti di Reiki allora punto primo l'aspetto importante su cui voglio voglio concentrarmi oggi ho preso santo degli appunti innanzitutto definisco il Reiki velocemente il Reiki quindi è una pratica giapponese riscoprata da Mika Osui alla fine del secolo di due secoli fa quindi alla fine del XIX secolo e che si è sviluppata in in Giappone e poi appunto perché alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento il Giappone era fortemente sensibile alle pratiche che univano mente e corpo psiche e corpo e quindi Reiki nasce in questo humus però è l'unica disciplina poi di questo genere che si mantiene viva e in vita dopo la prima guerra mondiale dopo la seconda guerra mondiale quindi noi andiamo ci collochiamo appunto in Giappone in Giappone c'è una tradizione ben diversa dalla nostra c'è una disciplina diversa e c'è un modo di vivere diverso e anche un'attenzione per esempio alla pratica alla pratica marziali al rispetto dell'ordine della gerarchia e chiaramente il Reiki subisce queste influenze è normale perché inevitabilmente si viene a confrontare con sensibilità legata al mondo delle arti marziali legate e legati anche al concetto di famiglia infatti oggi il Reiki in Giappone è una pratica fortemente familiare diffusa all'interno della famiglia e che è utilizzata come cura all'interno della famiglia quindi il Reiki ha come obiettivo quello di stimolare il processo di autoguarigione e quindi permettere al praticante o al ricevente di contattare le proprie risorse quindi è una pratica una pratica di benessere una disciplina olistica una disciplina bionaturale orientata appunto a migliorare la qualità della vita delle persone e fin qua non ho detto niente di nuovo sotto il sole si divide in tre in tre livelli primo secondo e terzo e il terzo poi per chi lo desidera si apre alla possibilità di insegnare questo strumento però io ho parlato di percorso spirituale cos'è il percorso spirituale molto brevemente la parola percorso spirituale dà l'idea di una prassi dà l'idea di un processo quindi di qualcosa che è in fieri e che è spirituale perché? perché è legato al mondo dello spirito legato all'ambito che attiene l'assoluto attiene quelle energie sottili che difficilmente vengono percepite dai sensi quindi inerente al concetto di divinità a questo punto perché il Reiki può diventare un percorso come questo quindi può aiutare e simulare le persone a quello che definiamo un risveglio il percorso spirituale ha un obiettivo l'obiettivo è sicuramente il piacere la gioia la capacità di trovarsi al posto nel momento giusto ha come obiettivo la risposta alle domande esistenziali dell'uomo da dove vengo chi sono dove sto andando qual è la missione qual è il Dharma da dove arrivo quindi che cosa mi porto dietro karmicamente probabilmente e che cosa poi devo sviluppare in questa vita per poter fare quel passettino animico in più che mi perte poi in una seconda incarnazione di poter continuare il mio percorso e velocizzarlo in consapevolezza il Reiki sicuramente non è una religione quindi già in questo è vicino al concetto di spirituale perché la religione sappiamo che è fatta di precetti rigidi è fatta di regole è fatta di gerarchie il Reiki non lo ha anche lo stesso insegnante di Reiki non è un maestro infatti a me sta molto stretto il concetto di Master Reiki perché l'idea del maestro crea immediatamente asimmetria crea forme di sudditanza mentre oggi è assolutamente antiquato un concetto come questo e soprattutto nel Reiki a me piace più immaginare che chi lo insegna sia un facilitatore di una pratica sia un facilitatore di un processo appunto di crescita e di sviluppo personale quindi il Reiki è quindi chiaramente non è religione e necessariamente asserisce e rientra in quello che abbiamo definito prima spirituale il Reiki ecco per chi non lo dovesse sapere è una parola formata in una parola rei e chi il Reiki è questa energia intelligente non invadente trascendentale che invade l'essere e il Chi è la manifestazione di questa energia pensate che ho provato a sostituire Rei con Dio con la parola Dio e Chi con la parola Io e quindi in qualche modo l'Io viene contenuto da Dio quindi nel Reiki c'è questa fusione profonda e questo Streben del Chi come individuo che cerca di ritornare e ributtarsi e rituffarsi nel Rei da cui ha avuto origine per poter attraverso questo tuffo rigenerarsi rinutrirsi e svilupparsi alla sua volta quindi mi sembra già un aspetto assolutamente interessante su cui non tanti hanno lavorato poi un'altra cosa che volevo dirvi che è una delle teorie che sostengo nel mio libro sapere, saper fare e saper essere nel Reiki è appunto che il Reiki è considerato in India una forma di yoga mistico yoga significa unione a, ta infatti unione di maschile e femminile per esempio e mistico il misticismo ha a che fare necessariamente con la frequenza del cuore ha a che fare con una visione quasi immanentistica che vede nella natura quindi nel creato l'espressione e l'idea del creatore quindi anche in questo abbiamo vediamo come il Reiki sia assolutamente degno di essere definito spirituale e quindi possa coadiuvare un percorso oltretutto un percorso spirituale è fatto di step possiamo anche immaginare un po' step come come anche i livelli di Reiki perché il livello di Reiki i tre livelli sono appunto livelli che indicano una successione perché si inizia da un livello più pragmatico più materico che che appunto è il livello del fare del non fare e quindi un livello legato alla compresenza dell'operatore che sostiene e aiuta il ricevente o se stesso il secondo livello è il livello legato al fare creativo dove viene assolutamente bypassato nei due concetti fondamentali le due categorie kantiane per eccellenza cioè lo spazio e il tempo l'operatore riesce a raggiungere quello che si chiama lo spazio della norma e in quell'eterno presente poter tranquillamente chiedere all'energia di spostarsi nel passato del presente e nel futuro che è eterno presente quindi non c'è questa questa linea temporale e a quel punto trascendere anche lo spazio e quindi utilizzare il Reiki a distanza come pratica di pulizia di sostegno indipendentemente dalla compresenza e già in questo presuppone a mio avviso un gran anche perché noi trascendiamo il tatto e trascendiamo la lista che sono due credo sensi più forti che noi utilizziamo quando abbiamo rapporti con le altre persone il secondo il Reiki richiede proprio all'operatore un salto un salto di consapevolezza un salto un'apertura che non è più percepibile è vero che già nel primo livello di Reiki tu percepisci sensazioni di formicolio percepisci il calore percepisci il freddo quindi ti accorgi che c'è un prima e un dopo perché succede qualcosa internamente cioè matura una consapevolezza che poi si estrinseca attraverso appunto questa trasmissione questa trasmissione di energia anche per Reiki non è altro che una forma di canalizzazione di energia e poi il terzo livello quindi dopo il grande salto il terzo livello è proprio la sintesi dove a un certo punto l'operatore capisce di essere egli stesso Reiki quindi è in tutto il flusso e a questo punto la persona si confonde con lo strumento è sempre così tanto e pienamente nel flusso che viene orientata e viene e si abbandona a questa energia intelligente rispondo alla domanda vorrei chiedere Reiki come metodo di autogorigione di cosa esce contemporaneamente su tutti e quattro i livelli energetici già da primo livello il da questo punto di vista proporio emozionale emotivo mentale spirituale quindi è assolutamente efficace su tutte le problematiche è ovvio che non è la panacea di tutto ma per quanto mi riguarda come e anche lo posso testimoniare espande profondamente la forbice tra malattia tra salute e malattia quindi la parte sana di noi e quindi sollecitando costantemente l'equilibrio psicofisico e l'equilibrio corporeo porta luce porta salute e nutre le parti sane che piano piano vanno a inglobare le parti più scure il reiki è utilizzato tantissimo in ospedale sia in italia che all'estero soprattutto in brasilia in america e viene ottenuto gli ambiti di intervento ricca alla mano su cui io studio costantemente sono soprattutto legate all'oncologia alla pediatria alla geriatria ma anche alle donne incinta psichiatria quindi questi sono gli ambiti di maggiore intervento appunto clinico del reiki stesso che è entrato in ospedale anche in modo abbastanza strano perché perché non nuoce mentre altre pratiche come il massimo o lo sciazzo ma anche la riflessologia comunque presuppano le pressioni sul corpo il reiki dato che si basa semplicemente sull'imposizione delle mani è ovvio che sicuramente non può nuocere e quindi questo aspetto di non nuocere del non far male ha permesso che entrasse negli ospedali o tutto ciò delle bellissime ricerche che stanno sottolineando come fare reiki e praticare reiki per i malati oncologici per esempio significa migliorare e non è poco l'attitudine della malattia quindi è come se risvegliasse un'energia vitale all'interno della persona quindi un atteggiamento propositivo e positivo nei confronti della malattia e dall'altra l'inalzamento della sogna del dolore ciò significa che le persone soffrono di meno quindi l'obiettivo non è guarire da un tumore ma poter viverlo in modo migliore e soprattutto con meno dolori e non mi sembra poco vediamo il reiki in che tipo di medicina rientra allora innanzitutto evidentemente è una medicina tradizionale quindi non può essere una medicina occidentale il reiki rientra nelle CAM ovvero nel complemento rientrato in medicine ci sono liste di 131 143 pratiche in America secondo gli elenchi che vengono considerate e il reiki è una di queste accanto alle mani che curano al prani healing alla pranoterapia cioè risultano tutte quante questa risultano all'interno di questo grande calderone di guarigione attraverso l'imposizione delle mani il reiki è sicuramente però tra tutte le pratiche olistiche quella più diffusa ed è diffusa evidentemente per una facilità di apprendimento e anche perché punta profondamente sull'auto sull'autotrattamento quindi il primo ricevere di un percorso reiki di un operatore reiki è se stesso perché è proprio lì che fa la differenza cioè cercare di mantenere il proprio campo energetico tanto coerente da poter essere per gli altri di trasformazione io sto facendo mi fa piacere che ci siano tutte queste domande le trovo molto interessanti allora io vi rispondo rompo la mia relazione allora come si pratica come ti dicevo c'è un percorso c'è un training un training basato su delle una sì su una procedura iniziatica sono per il primo livello quattro iniziazioni che sono proprio una sorta di sequenza di gesti attraverso i quali l'operatore stesso va a pulire i canali progetici li libera dall'educazione dal dallo stagione dal malessere e permette così l'operatore stesso di rientrare in contatto con questa energia sottile che ci appartiene e che nei bambini è assolutamente spontanea ma noi poi col processo educazione di socializzazione e se vogliamo con tutta la nostra storia abbiamo un po' incancrenito e arrugginito quindi il reghi va a ripulire proprio come un idraulico questi canali per permettere alla persona stessa di riconnettersi con questa energia universale quindi si pratica come o sul lettino o sul futon io preferisco sul futon a terra perché permetto la persona già di posizionarsi in ciava del morente o del dormiente dello yoga e già quella porta grande beneficio alla persona e poi ho sul lettino chiaramente e io impongo le mani da vestito è molto importante perché l'energia del reiki è così sottile che non ha bisogno della nudità anzi a volte la nudità crea problema perché esiste il processo di sudorazione che può dar fastidio quindi io consiglio sempre di ricevere reiki chiaramente i vestiti devono essere più naturali possibili meno gomma meno materiale non naturale quindi tutto ciò che in qualche modo commerciale o chimico è meglio evitarlo perché va a influenzare il campo come anche le oggettistiche varie quindi bisognerebbe fare reiki come vi dicevo con un giusto con un giusto con un giusto abbigliamento io consiglio sempre i miei studenti il bianco anche perché è professionale indica purezza e poi anche respingente protettivo e poi senza bracciali senza anelli anche senza senza orecchini senza collane anche perché l'idea è indurre uno stato di rilassamento profondo nella persona e poi alleggerirlo e liberarlo da traumi che ha vissuto infatti reiki agisce appunto per ripristinare l'equilibrio psicofisico ma e anche per energizzare la persona che lo riceve guarda l'organizzazione mondiale della sanità non so come abbia dichiarato questa disciplina non ho idea ma definisce malattia non soltanto definisce salute non soltanto l'assenza di malattia ma quello stato di riequilibrio strutturato sociale globale dell'individuo e quindi credo che i riechi rientri in pieno titolo appunto in queste quelle che possono essere definite pratiche o cure palliative sai la cura palliativa è una cura legata a dolore non credo che rientri proprio in modo dichiarato nella cura palliativa torno a dirti rientra sicuramente tra le pratiche legate al benessere lo possono praticare tutti sì lo possono praticare tutti non c'è nessuna distinzione non c'è nessun limite all'accesso io normalmente lo insegno dai 12-13 anni in avanti anche se sto pensando da un paio d'anni di iniziare a aprire i corsi chiaramente in modo diverso per i bambini degli 8-9 anni ma possono tranquillamente praticarlo tutti fino all'attimo prima di ispirare l'ultimo respiro quindi un valido bastimento che ti accompagna in tutti i momenti della tua vita e soprattutto ricorda che devi occuparti di te che devi ricorrere costantemente a questo strumento per mantenerti integro e soprattutto come dicevo prima per sollecitare il sistema immunitario e quindi potenziarlo ed essere meno tra virgolette contagiato dalle malattie autotrattamenti per praticare Reiki sì nel Reiki esattamento come ho detto prima ci mancherebbe assolutamente sì la prima persona che deve ricevere questo trattamento è appunto l'operatore stesso il discorso che non si può autoapprendere se era questa la domanda non ci sono dei corsi è vero che in questo momento veramente particolare ma anche da prima vedete corsi che vengono online eccetera a sonduti in modo pressoché ridicolo allora io non ho nessuna posizione di chiusura rispetto alla possibilità di mandare delle attivazioni online io non lo faccio perché non lo faccio perché credo fortemente nella formazione per me la formazione è alla base di qualsiasi tipo di strumento o disciplina quindi io ho bisogno di vedere come lavorano i miei studenti di seguirli di indirizzarli il training di primo livello direi chi dura 20 ore è l'iniziazione per ciascuna persona che fa parte del gruppo e per me i gruppi non superano le 6 persone vanno dai 3 ai 6 anche perché altrimenti poi è difficile seguirli bene e soprattutto per me diventa pesante la procedura di iniziazione perché comunque per ogni persona sono inocrazioni del primo livello di 7 minuti e mezzo 8 minuti ciascuna voi quindi capirete che rimanere in un flusso di energia pura perché quell'energia passa attraverso il mio corpo in modo imponente per andare a liberare e sturare i canali energetici dell'altra persona quindi la richiesta per me l'impegno per me è molto forte e io dopo un tot non ce la faccio proprio fisicamente non riesco a sopportarlo quindi per me 6 persone è il numero massimo sono arrivato a 8 ma iniziano rimanendo fino alla notte tarda sia venerdì che sabato però preferisco e lì l'ho fatto semplicemente perché non era fuori c'era una persona che organizzava e soprattutto due persone erano in forse e in quel momento l'organizzatrice ha scelto di inserirli nel gruppo e poi ci siamo trovati in 8 però per me il numero ottimale sono 5 persone 5-6 persone anche perché mi piace sempre continuamente dare la possibilità a ciascuno di viversi l'esperienza pienamente io voglio essere lì per ciascuno perché un'opera importante è proprio sensibilizzare sensibilizzarsi al percepire al sentire e noi non siamo abituati ad ascoltarci noi siamo abituati a percepire sotto le nostre mani delle cose non ascoltiamo il respiro ma ascoltiamo il nostro cuore immaginate quello che si può muovere sotto le nostre mani nel momento in cui andiamo a interagire energicamente con l'altro e quindi questo è proprio tutto un percorso un percorso legato alla relazione a come gestire un setting e queste cose qui secondo me online lasciano il tempo che trovano però io non giudico i colleghi ciascuno faccia come vuole è un libro nero del reiki perché di questa disciplina soprattutto negli anni si è molto abusato è stata si è manifestata come forma di potere c'è gente che è rimasta che è stata indagata c'è gente che è andata in prigione perché ha abusato della debolezza e della fragilità oppure ancora di più ha fatto ruotare attorno al suo trono adepti facendoli dipendere totalmente da lui o da lei voi capite che questo aspetto cozza completamente con quello che vi ho detto prima all'essere facilitatori e non maestri cioè il maestro ha un grado di coscienza e di consapevolezza che sicuramente non è garantito da un training di una disciplina ma il maestro ha risvegliato delle capacità karmiche o sue naturali che lo può immediatamente a contatto col divino che esprime in ogni singolo gesto e non è possibile oddio è rarissimo che succeda che con un percorso di due anni perché più o meno il tempo io propongo per gli insegnanti si possa poi raggiungere quel livello poi mi piacerebbe veramente che tutti quanti riuscissimo ad arrivare all'illuminazione ma l'illuminazione come tutti i percorsi sono veramente fatti di scelte fatti anche di rinunce perché ogni giorno dobbiamo decarci come ambasciatori della luce perché ogni minuto le tenebre sono lì che tentano di distorcere e di diviare il nostro percorso quindi come si pratica lo posso praticare sì vediamo un po' se ci sono altre domande torno al mio discorso il perfetto rivolto alla mia persona poi mi sembra che sia già entrato in ospedale sì infatti il re che aumenta anche le difese immunitarie sì l'ho detto prima sì 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 certo ecco in quale città faccio i corsi in quale città faccio i corsi io lavoro a Castelletto di Brenzone in provincia di Verona a Torino in Calabria in provincia di Reggio Calabria a Roma e poi sono sempre disponibile a viaggiare quindi nel momento in cui si forma un gruppo di 5 persone io sono da venerdì pomeriggio all'una e mezza a parte in questo momento sono sempre libero e sono sempre disponibile a portare questo a portarmi appunto per fare in modo che le persone possano conoscere questo strumento e formarsi con me in più sono un reicologo uno dei primi reicologi è nato questa figura che legittima al MISE che amministra allo sviluppo economico questa pratica e sono uno dei primi docenti del benessere dell'Asi io posso sono un docente a certi lati a livello nazionale e quindi la formazione è una formazione trasparente garantita e che ha un protocollo importante per prendere il terzo livello quante lezioni necessitano cara Marisa è una domanda a cui non posso risponderti perché il terzo sono chiaramente abbiamo detto tre livelli sono più o meno due weekend ciascuno un weekend ciascuno quindi sarebbe oltre weekend ma il terzo livello di reiki io lo do dopo che una persona ripeto tre quattro volte il primo livello due volte il secondo livello dopo che ha fatto tutto un percorso con me perché sai è molto importante oggi più che mai non svendere le cose il reiki è molto il primo livello è un livello che io faccio fare a chiunque pensate che io l'ho fatto fare a tutta la mia famiglia poi non c'è nessuno che lo pratica però tutti quanti l'hanno fatto perché è un tocca sana perché va a pulire va a sgrassare poi per chi vuole utilizzarlo è veramente il panno che sostiene autosostenere dal secondo livello in poi c'è tutto un altro tipo di discorso per me perché il potere aumenta della disciplina le conoscenze sono molto più forti la capacità e la possibilità di manipolare è altissima e quindi non è necessariamente una persona con me dal primo livello passa al secondo ecco nonostante i costi siano molto più alti nel secondo livello nel terzo livello ma se io non ho la certezza della purezza del cuore e dell'intenzione di quella persona io al secondo livello lo do per una questione legata anche a una legge a una legge esoterica importantissima che torna tre volte sia il bene che il male e dato che io so che il reiki dal secondo livello può fare male quindi può fare tanto bene come può fare tanto male io quindi la mia azione potrebbe in qualche modo portare qualcuno ad avere un potere tale per poter manipolare ferire annientare o mercificare il dolore di qualcun altro allora io da un punto di vista proprio etico per preservarmi preferisco non dare il secondo livello di lei e tantomeno il terzo quindi è una risposta a cui non posso risponderti io lascio molto parlare il mio sé superiore in questo osservo molto chiedo i perché una persona abbia bisogno di fare i livelli avanzati perché non serve se tu devi farlo solo per primo livello è perfetto se tu poi mi dici che ti serve per sviluppare dei talenti per aiutare gli altri per diventare un operatore professionista e ti metti in un'ottica di neutralità e di innocuità allora a quel punto ne possiamo anche parlare spero che sia molto chiaro quello che sto dicendo ti mettiamo un attimo qualche domanda vediamo qualche domanda se c'è ah allora perfetto tutto online i contatti finora perfetto Gina ti ringrazio dei tuoi si pratica all'aperto che bella domanda è la prima volta che me lo si chiede io ho fatto tanti tanti livelli direi che all'aperto non c'è nessun tipo di problema se farlo al chiuso all'aperto è ovvio che quando io tratto le persone le tratto nel mio studio e le tratto in modo assolutamente riservato però come pratica per esempio c'è il mawashi reiki che è un reiki di gruppo che io ho fatto spessissimo all'aperto al mare producendo un bellissimo un bellissimo cerchio di energia nutriente del karuna reiki il karuna reiki non è un reiki tradizionale l'ho citato prima io sono l'insegnante di karuna reiki anche se adesso il karuna reiki non si insegna più perché c'è l'holify reiki 2 addirittura il karuna reiki è una specialità io lo definisco una specializzazione del reiki comunque è stato canalizzato è stato brevettato da William Rirend nel 1995 ed è un upgrade del reiki perché parte dal terzo livello quindi soltanto i terzi livelli master terzi livelli almeno master stopartutto hanno la possibilità di avvicinarsi a questi tre livelli perché sono stati che si basano sull'iniziazione di altri otto simboli altri undici simboli e quindi sono simboli molto interessanti molto forti e che vanno proprio nello specifico sì ho parlato di simboli perché il reiki è una pratica iniziatica e poi esoterica attorno a questi simboli sacri che sono proprio ciotole sacre sono catalizzatori di energia che hanno delle specifiche di utilizzo e che vengono richiamate attraverso dei mantra che sono proprio i loro nomi vengono attivate durante l'iniziazione del secondo e del terzo livello di reiki e permettono all'operatore per esempio di trattare gli schemi cognitivi gli schemi mentali purificare la persona da agitazioni e traumi emotivi nel passato e nel futuro quindi proiettare energia anche nel futuro poi se c'è qualche altra domanda se no io continuo perché ho preparato una relazione lunghissima però è molto importante io sono qui per voi non sono qui sicuramente per quello che mi sono prefisso quindi se non c'è nessun'altra domanda se nessuno mi chiede qualche altro approfondimento io continuerei spero di essere stato chiaro perfanti vi dicevo proprio che il percorso spirituale il percorso spirituale è fatto di step di scelte e di obiettivi fondamentali e quindi tra quelli quindi tra questi step vi dicevo appunto i tre livelli di reiki potrebbero rappresentare degli step che favoriscono un percorso spirituale perché ti mettono a contatto pienamente con quello che sei infatti quando ho scritto il libro ho proprio cercato di parlare del reiki in modo originale utilizzando delle parole chiave alcune parole chiave sono parole che sicuramente possono essere parole mattoni fondanti di qualsiasi tipo di percorso spirituale la prima parola è la parola canale l'essere totalmente abbandonati all'energia il non mettere nulla il non fare quindi essere in senso assoluto l'essere canale significa fare spazio a questa energia divina dentro di te che poi viene proiettata all'esterno attraverso le tue mani ma è tutto il corpo che poi proiettava l'energia quindi un abbraccio di un operatore centrale è un abbraccio che veramente trasmette tutto all'altro poi dietro il concetto di canale quindi di mettersi un po' da parte c'è un insegnamento importantissimo che è appunto l'umiltà l'umiltà è una parola che chi mi conosce sa perfettamente importantissima nonostante per molti venga considerato presuntuoso esacente io mi sento invece per le persone che mi conoscono bene lo sanno una persona molto umile molto umile nel senso proprio più profondo del termine umiltà deriva da humus cioè terra cioè difendo questa mia terrestrità questa voglia che voglio che desidero di di poter essere sempre pronto a imparare di essere sempre aperto all'esperienza di non sentirmi arrivato quindi l'umiltà non è quella che dice oddio sono modesto posso oddio ma no ma non dimmi che mi monto la testa cioè non è quella l'umiltà quella è una falsa modestia l'umiltà è consapevolezza l'umiltà presuppone una coscienza importante rispetto a quello che si è ma sempre in un'ottica di essere pronto a imparare a imparare da chi dalla maestra che è la vita dalle esperienze dagli incontri che facciamo perché sono gli incontri che poi soprattutto rappresentano quelle piattaforme importanti che fanno fare dei salti quantici poi quando invece quando facciamo anche degli incontri karmici che a volte sono anche dolorosi perché ci aprono delle ferite o ci fanno vedere delle cose che poi intuitivamente comprendiamo a quel punto ancora di più e poi un'altra parola importante è la parola responsabilità la responsabilità è assumersi il proprio ruolo essere sempre centrati nel rispetto dell'altro nel rispetto del tempio dell'altro responsabilità nel reiki significa mandare reiki a distanza soltanto dopo aver ricevuto il permesso perché non quello che fa bene gli altri e questo è molto importante noi dobbiamo sempre essere il contributo che l'altro ci chiede di più il di più può essere rischioso io l'ho imparato a mie spese essendo un entusiasta della vita uno che si muove sempre uno che fa tante cose ho sempre pensato che se vedevo una roba che era proprio davantina che non era mia sugli altri poi io dovevo dirgliela invece non è così responsabilità significa lasciare l'altro lo spazio per poterti chiedere e tu devi essere responsabile quando fai tacere la tua mente rimani nel flusso e permetti al flusso di parlare e di dire quello che veramente è più importante e più nutriente per l'altra persona questo significa essere il contributo più puro per l'altro e poi vi dicevo centratura la centratura è uno degli aspetti fondamentali del reiki perché significa attenzione al presente significa qui e ora significa essere presenti a noi stessi il nostro cuore ascoltare il nostro respiro significa esserci dimenticandoci del fare e voi avete idea di cosa significhi questo no? in una società come la nostra occidentale che invece è una società performante io vi sto dicendo di che è più importante l'essere del fare io sono nunzio dopo essere nunzio sono un master reiki sono un facilitatore sono un operatore olistico ma io sono nunzio quell'anima che ricerca quell'anima che vuole star vicino a ciascuno di voi che oggi vi sta trasmettendo quello che ha maturato questo prima di tutto e essere in questo modo significa arrivare a voi parlarvi profondamente nutrirvi farmi ascoltare dal vostro cuore e questo essere autentici questo significa a mio avviso camminare sulle proprie parole e quindi la coerenza e poi un altro aspetto bello che lega il reiki al percorso spirituale quindi ci fa sostenere che il reiki può sostenere veramente un percorso spirituale sono i cinque principi del reiki che oggi di cui non posso parlarvi perché ci metterei un cuore da ciascuno però ve lo voglio citare perché la lingua madre permette in quanto lingua tonale di arrivare dritta e quindi trascende la pura comprensione della singola parola in italiano sono innanzitutto i principi del reiki secondo Mikao Usui sono il metodo segreto per invitare la fortuna e sono la meravigliosa medicina per tutte le malattie quindi capite come il nostro maestro quindi che ha riscoperto questo strumento centro è uno degli aspetti fondamentali il gokai si chiama i cinque principi sono tra gli aspetti fondamentali e fondanti di questa disciplina tanto che addirittura ci invita a inserirli all'interno del trattamento per esempio ci invita a meditare la mattina e la sera su questi su questi principi che hanno proprio un potere di sguicciare di farci sguicciare nelle situazioni ve li ripeto prima in italiano e poi ve li sussurro in in giapponese solo per oggi non essere arrabbiato non ti per provare sii grato lavora sodo su di te e sii gentile verso i tuoi simili in giapponese sono vi prego chiudete un attimo gli occhi ascoltateli kyodake wa e ripeteteli kyodake wa okuruna shinpai suna kansha shite go age me ituni ituni shinsetsuni ve li ripeto kyodake wa okuruna shinpai suna kansha shite kansha shite go age me ituni shinsetsuni al centro c'è proprio oggi solo per oggi quindi la centralità del qui e ora non essere arrabbiato non essere preoccupato quindi preoccupato cosa significa? occuparsi prima non ha senso perché non ha senso preoccuparsi di qualcosa né nel futuro né nel passato perché non possiamo intervenire né sul passato che è già andato né tantomeno sul futuro noi dobbiamo occuparci quindi la preoccupazione non ha senso e spesso la preoccupazione ci fa arrabbiare ci irrita e quando noi ci arrabbiamo dobbiamo capire da dove parte questa rabbia perché la rabbia di per sé è energia a volte è energia che ci sa la vita ma noi dobbiamo fare in modo di essere imperturbabili di non permettere a nessuno di irritare e non è facile non è assolutamente facile si grato la gratitudine è la forma più elevata d'amore è quella cellula che ci permette di sentirci tutti fratelli tutti nodi di una grandissima di questa living matrix tra me e te non c'è nessuna differenza io e te siamo uno questo è il concetto della gratitudine e poi lavora solo su di te quindi nei principi proprio appunto e questo mi fa ancora capire quanto sia opportuno dire che il reiki può essere un percorso spirituale o comunque sostenerlo perché tra i principi c'è il lavoro quotidiano il lavoro sodo su chi? su di noi sulla nostra coerenza sul nostro essere contributo per questo piano sul nostro manifestare quello che abbiamo scelto nel progetto di volo sull'osservarci sul fare silenzio sul capire veramente il senso della nostra vita e qua ci vuole un lavoro enorme e quindi percorso spirituale come vi dicevo e poi si gentile verso i tuoi simili la gentilezza la gentilezza come forma d'amore quella cortesia sincera che ci permette di sorridere di dire grazie lo so che sto dicendo delle cose ovvie ma oggi più che mai non lo sono quante persone vedete avete osservato in un pullman pieno alzarsi per cedere il proprio posto o una signora anziana o una signora incinta oppure quante persone aiutano una vecchietta a attraversare la strada è molta diffidenza è vero che oggi la società ci ha invitato a essere tattofobici oppure non siamo più abiti alle forme di gentilezza di cortesia quindi siamo quasi invadenti ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati vediamo come qualcosa di impossibile ciò che dovrebbe essere naturale perché siamo fratelli e tra fratelli non possiamo percepirci come nemici ma dobbiamo trovarci laboratori che fanno qualcosa insieme mentre invece oggi noi siamo stupiti e ci stupiamo ci meravigliamo di atti semplici perché siamo disabituati a vederli quindi vi prego cerchiamo di portare questa bellezza questa attenzione è già questo un grandissimo percorso spirituale e attenzione all'altro al suo bisogno alle sue necessità a quello che ci chiede a quello che ci dice vi prego anche come stai è importante ma quando diciamo ciao stai guardiamo negli occhi l'altra persona non diciamolo per cortesia o per formalità facciamolo con tutto noi stessi Gina come stai e aspettiamo che l'altra ci risponde non attraversiamo non andiamo di fronte e la abissiamo gli altri dei nostri problemi perché spesso e volentieri a noi non frega niente degli altri questo è il grande dramma ci lamentiamo ma siamo tutti concentrati su noi stessi su quanto è difficile la vita soprattutto in questo momento le libertà che non si hanno la paura la miseria i soldi che finiscono il fatto che non riesci a stare in casa perché prima non avevamo tempo di stare con i nostri figli adesso che ce l'abbiamo ci lamentiamo perché ci stiamo ah ma no ma io allora decidiamo da che parte stiamo allora un attimo che finisco e poi rispondo a queste domande non vi preoccupate e quindi dietro la parola gratitudine e quindi dietro questa pratica si nasconde un'altra parola chiave fondamentale che mi fa capire che il Reiki può essere uno strumento che sostiene il percorso spirituale che è appunto il servizio cos'è il servizio il servizio è rispondere alla chiamata con la C maiuscola e direvi sì con fiducia e abbandonarci alla volontà dell'assoluto questo è il servizio e in quel momento vi posso assicurare che tutto si manifesta nel momento nel momento in cui siamo profondamente nel servizio non abbiamo da temere nulla perché l'assoluto Dio il mondo dell'ospito è con noi che ci sostiene perché non potrebbe volere diversamente per noi è quello che si aspetta da noi ed è magnifico e io ho l'immagine quando parlo del servizio della Vergine Maria ma voi ci avete mai pensato adesso al di là della Vergine della Madonna di cui non mi interessa nulla però secondo un acconto biblico a un certo punto sta donna di 16 anni 17 anni 20 anni quanto poteva avere non lo so 15 16 a 7 a un certo punto lei era impegnata a fare qualcosa in un pomeriggio di marzo probabilmente si vede davanti un essere illucente che dice che ti ha prescelta e tu porterai in grembo il figlio di Dio ma vi rendete conto di cosa è significato per questa donna che probabilmente credeva sicuramente era molto credente ma lei cosa ha fatto sia fatta di me come io sono la serva del Signore sia fatto di me quello che lui ha detto sono la serva del Signore e questo è il servizio secondo me questo è l'aspetto più importante di ogni pratica olistica e del Reiki in particolare proprio essere rispondere sì a questa chiamata esserci pienamente adesso io le cose fondamentali ve le ho dette per fortuna vediamo le domande che mi avete fatto così vi rispondo spero che Gina non si arrabbi se ho sforato l'ora ma mancano ancora quattro minuti per fortuna ho iniziato prima allora quindi le domande vediamo un po' sia all'aperto si pratica all'aperto a contatto con l'aria aperta non sarebbe più rilassante ma dipende dai punti di vista sai se io devo se devo fare un trattamento energizzante perché no assolutamente sì però io lavoro sui traumi delle persone e voglio che protegga e faccia sentire libera la persona di potersi esprime e di poter piangere quindi dipende cosa intendi per aria aperta è ovvio che non un parco per fare però se c'è un giardino di uno studio però anche lì i rumori cioè non è facile cioè io preferisco fare i trattamenti appunto all'interno di un di un circuito più chiuso è protetto buongiorno cosa ne pensi non so sul fatto di far pagare i trattamenti oppure farli in forma gratuita allora Patrizia io faccio pagare i livelli i trattamenti faccio pagare i livelli di reiki e ti rispondo molto velocemente durante le giornate di presentazione dove faccio sperimentazione dove faccio provare io non ho mai chiesto neanche 5 euro anche perché lo trovo offensivo nei confronti della mia professionalità ma se una persona vuole fare un percorso con me di conoscenza deve essere pronta a mettere su piatto qualcosa non è una frase fatta quella che ci dice che ciò che è gratuito non ha valore non è assolutamente io sono la testimonianza di questo a me secondo livello direi reiki l'hanno regalato fatto e ho pagato ma quando me l'hanno regalato io ringrazio la master che me l'ha regalato perché ero uno studente universitario non avevo la possibilità di permettermi però io non l'ho mai utilizzato io ho utilizzato il secondo livello di reiki dopo che ho pagato il secondo e il terzo livello e quindi questo mi fa capire quanto sia importante dare dare un prezzo a quello che si fa anche in termini di responsabilità del mio percorso se io vado da un psicologo o vado da un medico non mi sono mai lamentato non mi lamento se questa persona mi richiede a un fario e diciamo che un professionista nel mondo dell'olismo non dovrebbe fare non dovrebbe assolutamente stupire la mia formazione io vi faccio qualche numero è costata circa 30.000 euro e io sono contentissimo di averli pagati perché tutto quello che ho fatto mi permette oggi di parlarvi in modo assolutamente garbato e competente rispetto a un tema che per me è stata una sfida molto sfidante e non vi ho sicuramente convinto di nulla ho parlato in modo molto chiaro e questa mia chiarezza è frutto di anni di studio anni di lavoro anni di confronto trattamenti ricevuti trattamenti tantissimi fatti quindi no assolutamente poi ognuno può fare quello che vuole ma io ai miei studenti dal primo livello di Reiki dico che è molto importante scambiare qualcosa anche perché comunque c'è il tempo di mezzo c'è il tempo e soprattutto anche lì non bisogna offendersi se ci si fa pagare il denaro energia il denaro un giorno mi disse un grande un grande saggio che come lo sterco se si accumula puzza ma se tu lo distribuisci e lo fai girare lo fai circolare è un fertilizzante importante e quindi credo che assolutamente sì io tutti i soldi che ricevo li rinvesto in formazione li rinvesto in strumenti che mi permettono in libri che mi permettono di essere sempre più all'altezza della gestione del percorso non so scusa se mi permetto ma tutto questo ha un costo giustamente e ovviamente anche qui come in altri c'è una serie di lezioni che vorrebbe veramente farlo per tanti giusti motivi ma non so se lo può permettere scusa la mia sincerità allora Manuela ti ringrazio aspetta che continui non leggo sì Manuela ti ringrazio anche lì siamo sempre siamo sempre di fronte alla paura anni fa io stavo facendo un percorso con una con una channeler che ho tutta una grande astrologa e ogni trattamento parliamo di 80-100 euro io all'epoca avevo 15 anni fa avevo 450-100 euro sul conto io non ho dubitato perché sentivo di doverlo fare e posso assicurarvi che vivo in affitto pago 500 euro al mese e non è che ho qualcuno che mi mi manda i soldi tutti i mesi quindi lì io ti rispondo in questo modo se è un'esperienza che devi fare secondo me il mondo dell'ospito ti mette nelle condizioni di io non ho mai avuto problemi a dilazionare il prezzo di qualsiasi cosa posso dirti che c'è gente che non mi ha pagato un terzo livello di reiki un secondo livello di reiki però non voglio imparare da quelle esperienze negative ho gente che ha fatto dei trattamenti con me e non mi ha non mi ha ritribuito appunto in un'ottica come dicevo prima di mettere in condizione l'altro però anche quelle sono esperienze e sono sicuro che e spero che stiamo utilizzando reiki al meglio però credo fortemente che se quella è un'esperienza che devi fare si creeranno le condizioni più opportune per permettertelo io quello che vi consiglio è di non far sì che sia il denaro a condizionare il vostro percorso io sto ancora dopo mi sono diplomato nel 2010 nella scuola di Shatsu e ogni anno io faccio due seminari di aggiornamento professionale due o tre seminari e ogni seminario lo pago le 90 alle 250 euro e io sono contento di pagarle pago la competenza della mia insegnante pago il fatto che lei che continui a studiare quello strumento mi sono dedicato maggiormente al reiki continui ad alimentarmi e e mi stimoli in curiosità tanti passaggi che ho maturato con lei si chiama Patrizia Stefanini di Milano siccome è veramente un riferimento mondiale è una delle poche che insegna in America se non l'unica italiana che insegna in America insegna in mezzo a Europa tanti dei suoi insegnamenti io poi li ho filtrati ed ha cambiato anche la mia e soprattutto da lì ho iniziato a fare ricerca orientate orientato dai suoi suggerimenti tutto il lavoro del campo ha avuto inizio con un confronto con lei con Emilio del Giudice e da lì chiaramente poi ho sviluppato degli aspetti e loro resti applicabilissimi al reiki quindi ringrazio allora Maria Teresa Giorgini che bella che sei come faccio a sapere quando tutto ripartirà quando vieni a Roma per partecipare Maria Teresa innanzitutto scrivimi sulla mia pagina io sono sempre disponibile a rispondere a tutte le vostre domande quindi anche a invitarvi per tutti i corsi che faccio oltretutto questo è un gruppo bello nutriente dove io riconosco veramente in Gina e in Luca degli amici importanti anche da Elena eccetera amici importanti che hanno compreso chi sono e ci siamo riconosciuti e quindi non ti preoccupare Maria Teresa sicuramente sarai informata in qualche modo dovresti insegnare a scuola Luca tu non lo sai ma io sono un insegnante sono un insegnante di scuola elementare un insegnante amato un attimo dai suoi allievi un insegnante che una settimana è riuscito a a rimettersi in gioco io sto facendo didattica a distanza per i miei bambini che adoro e che amo come se stessi in classe e loro sono speciali loro mi stanno ripagando in modo grandioso perché i bambini sono eccezionali e i bambini di oggi sono tutte quante anime elevatissime peccato che spesso e volentieri i genitori hanno pochi strumenti e gli insegnanti ancora peggio meno per permettere loro di esprimere la loro grandezza per me è un tema delicatissimo Luca l'educazione e la formazione da quell'età lì e io trovo che le soddisfazioni che ricevo sono sicuramente in natura ma sono umane umane da loro loro sanno che io ci sono per loro e io so che loro ci sono per me con un affetto e una stima io per loro sono un faro importante io rappresento quella quotidianità che è stata rubata loro in modo violento e loro mi stanno ripagando facendo dei lavori in autonomia che non posso farvi vedere ma mi arrivano certi video che voi non avete idea di mappe concettuali in terza elementare di veramente sofisticherie poiche e testuali che che sono dell'amore che nutrono le mie di quello che io nutro per loro perché un insegnante questo deve fare ecco un insegnante a qualsiasi livello deve essere generoso e deve dare tutto quello che è tutto il mio entusiasmo porto l'opera lirica che amo in seconda elementare hanno studiato con me l'Isir d'amore di Donizetti e i miei bambini la conoscono meglio della media nazionale sette anni e quest'anno chiaramente sono cresciuti e facciamo la buona l'anno prossimo ve lo dirò nella prossima non c'è ancora pensato però è molto importante ecco per dirvi in questo momento il mio esserci è proprio il mio portare un messaggio di resilienza di trasformazione e di volontà all'azione perché è un'occasione per riflettere per meditare per ma anche per agire creatività dobbiamo creatività la creatività è uno dei talenti più grossi che ci arriva da la creatività l'intuizione e usiamola non ci facciamo annichilire dalla paura usiamola una dottoressa ha detto un vero di non ciò questi messaggi in televisione ci stanno ammazzando stanno generando paura panico stanno distruggendo il sistema immunitario devi fare qualcosa e io due giorni dopo mi ero creato una web radio e facevo il primo programma di meditazione e da lì poi le cose vengono perché l'importante veramente tra chiamare e testimoniare noi siamo qui siamo tutti quanti anime evolute non sareste qui in questo gruppo non avreste trascorso una giornata ascoltando relatori se non lo foste crediamoci crediamoci veramente crediamoci siamo esseri esseri infiniti siamo esseri preziosi ed è quello che dobbiamo fare con quale pratica si potrebbe sconfiggere il male con questa pratica ma sai Nicola come fai? perché devi sconfiggere il male? già il concetto di sconfiggere significa un'azione contro qualcosa non credo che bisogna sconfiggere niente ti prego rifletti sulle parole le parole costruiscono i mondi noi col pensiero possiamo creare se io porto l'idea di sconfitta porto un'energia di guerra di distruzione non non mi risuona il male serve perché ci permette di perché è l'altro lato della medaglia il buio serve perché permette alla luce di risplendere come il male serve per mettere in discussione costantemente il bene altrimenti cosa potremmo fare la terra non sarebbe più la palestra che permette di rivolvere spero di averti risposto quindi vi prego anche nel linguaggio questo lo lascio proprio così nel linguaggio il linguaggio è fondamentale vi prego avverbi come mai toglieteli parole come decidere è meglio scegliere lasciatevi aperti lasciatevi aperti e soprattutto non cercate risposte cercate insegnanti che vi facciano delle domande puntate la vostra autonomia decisionale animica non delegate agli altri il vostro potere tenetelo voi e questo è importante perché è alla base dello sviluppo del percorso Dora che carino i bambini sono speciali organizziamo a Pisa e a Roma quando vuoi Gina tu lo sai io con te faccio qualsiasi cosa è chiaro la stima è enorme i bambini fortunati sì però sono molto molto esigente molto non avete però li amo li amo e soprattutto permetto loro di mettere in campo sempre la loro bellezza questo sì allora speriamo che se lo riterrà giusto che mi illumini grazie bravo ma dobbiamo iniziare da capo quello che abbiamo fatto grazie per questa diretta interessante mi sa di Marisa Nunzio caro la speranza che infondi e ciò che fai porteranno sicuramente a splendere sì Elettra grazie proprio a splendere dobbiamo puntare ad essere splendenti non soltanto a star bene giusto Elettra essere splendenti perché noi dobbiamo manifestare costantemente la luce che c'è dentro di noi la fiammella divina che c'è dentro di noi perché l'uomo è l'essere che ruota tutto il cosmo e che a volte ce lo dimentichiamo oppure ci facciamo fregare dall'orgoglio questo è un po' e poi Gina ti prego ci siete parole grazie per la tua presenza e grazie a tutti i presentatori ok qualche esame viene riconosciuto speriamo che Nunzio qualche livello ce lo riconosca ma certo ma certo ma certo grazie sei una bella persona grazie Claudio allora io avevo pensato è vero di chiudere avevo un altro argomento ma ve ne parlerò in un'altra occasione l'altra parte della mia relazione sarebbe stata perché per un medio sensitivo sarebbe ospicabile le reiki io vi lascio con questa domanda anche se so che a qualcuno di voi incuriosisce ma non ve lo dico anche perché ho sforato di tanto però vi pregherei di fermare gli altri due minuti perché in questo periodo mi succedono delle cose molto strane ovvero canalizzo preghiere e c'è testimone lettera perché stavamo parlando la batteria si è scaricata ho messo in carica e io 12 minuti dopo avevo già scritto questa preghiera e vorrei chiudere il mio intervento vi auguro una una grande buonanotte se siete contenti allora perfetto Dio padre madre nel rivolgermi a te mi manifesto in tutta la mia fragilità umana chiedendoti di farmi riconoscere la mia luce divina Dio padre madre mi abbandono totalmente a te fa che il tuo sia il mio volere rendimi infattabile solido e determinato corra rapido e guizzante come il fuoco e senza confini come l'aria dammi la saggezza e la luce dammi il tempo per entrare in me e ascoltarmi in ogni esperienza per la mia più autentica crescita Dio padre madre permettimi di trasformare nel tuo nome quanto vivo ogni giorno trasmuta la mia noia in azione la mia accidia in volontà la mia inerzia in movimento la mia delusione in gioia la mia ignoranza in comprensione consentimi di poter essere oggi più che mai un tuo ambasciatore di amore fammi portare il tuo sardo della resurrezione fammi diffondere il tuo fiore della speranza fammi prendere le tue orecchie per ascoltare chi è nel bisogno Dio padre madre mi faccio cullare nell'oceano della tua infinita misericordia resetta mia stella polare i miei pensieri puri giudizio consentimi di portare bellezza e armonia e usa la mia parola per diffondere il tuo verbo e le tue divine istruzioni aiutaci a perdonare e a fare pace con noi stessi Dio padre e madre ti prego per chi soffre per chi è malato perché è in difficoltà per chi è in difficoltà opera nel servizio è incapace di vedere oltre questo momento di prova e si dispera Dio padre e madre proteggici dalla pandemia e offrici lo scudo dei tuoi angeli perché noi siamo al riparo Dio padre e madre tu che tutto puoi aiutaci a comprendere e rendi l'uomo che ami immune a questo virus serena e accogliente Amen 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 Certo, certo la scrivo assolutamente Nicola allora io vi ringrazio per aver veramente sopportato quasi un'ora e venti di di relazione ringrazio un'anima veramente candida pura nel servizio ringrazio Luca che stimo molto e spero di poter prendere presso i suoi libri ringrazio Elena e suo marito e ringrazio questo gruppo e ringrazio tutti voi spero vi avuto in qualche modo ho portato un unzio io sono così sono mi definisco sempre questo e amante e amante della ricerca vi abbraccio qui sono di me il mio numero di telefono è 366 3953014 via whatsapp senza problemi oppure 5.000 amici ma ogni tanto basta scrivermi su messenger e l'importanza è un contatto vi abbraccio forte e ancora grazie una doccia notte nutriente amena e soprattutto buonissima settimana buona vita ragazzi grazie 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 Grazie.